Come designer devono pensare nel futuro della nostra società sia interni che esterni. Siccome è la nostra azienda che è dedicata tantissimi anni all'automobile, per cui stiamo pensando di focalizzare la mobilità. Nel nostro ambiente quotidiano si trovano tantissimi robot. Visto che là ci sono anche robot, però non figurato, di umani, allora abbiamo pensato di combattere, corporare questa tecnologia avanzata, sia i mobili che si possa utilizzare anche fuori dell'ambiente. Quanto riguarda Portorona si chiama Aili Ai, che è già incorporato la nostra carrozzina in elettrico, per cui è abbastanza fattibile di realizzazione. Invece questi tre cicli si chiamano Aili E e noi stiamo lavorando per realizzare in commercio 2020.